Quando si vedono le montagne che non c'è coschia Quando le vacanze iniziano e quando poi torno a casa mia Quando mi alzo e sento che ci sono Quando sfreghi il naso contro il pio Quando mi respiri vicino Sento che, sento che Per ogni giorno, ogni stanza e ogni attimo Che sto vivendo Grazie mille Quando si giocano le coppe intere il mercoledì Quando sento un pezzo splendido E mai pensavo bello così Quando il cane mi può salutare Quando vedo i miei sorridere Quando ho l'illusia a modo di fare Per ogni giorno, ogni stanza e ogni attimo che sto vivendo Grazie mille Per ogni stanza e ogni giorno, ogni attimo che mi è stato dato Grazie mille Quando un microfono non lo vorrei abbandonare mai Quando i miei amici prendono una coppiata secca Quando il mondo mi sembra migliore Quando il mondo mi sembra migliore Anche solo per un attimo Quando so che ce la posso fare Per ogni giorno, ogni stanza e ogni attimo che sto vivendo Grazie mille Per ogni stanza e ogni giorno, ogni attimo che mi è stato dato Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille a tutti Eccolo, grazie mille Ancora una volta pubblico sul palco E' veramente una stand innovation stasera per Max Pezzali Un grande concerto Grande successo, sì Un grande pienone qui al Palladium Probabilmente difficoltà a sfollarlo Sicuramente, direi di sì Infatti adesso ci saranno problemi magari qui nella zona Per riuscire a contenere il pubblico di casa qui al Palladium E termina qui allora il concerto di Max Pezzali Degli 883 in diretta sulle frequenze di Radio 2 di Rai International Vi ricordo poi anche la replica di sabato pomeriggio alle 17 E se invece siamo già a sabato pomeriggio alle 17 Questa è la replica naturalmente Grazie Marco Moren Grazie Federica Gentile E grazie a tutta l'equipe che adesso ascolterete nella sigla E a cominciare naturalmente da Genesio Di Iacovo e Pino Berardi Che hanno curato la parte tecnica e tutti gli altri che adesso sentite Appuntamento con Lotto Live lunedì prossimo Ciao Ciao a presto Avete ascoltato Lotto Live Un programma cura di Andrea Angeli Bufalini Con la collaborazione di Roberto Buttinelli e Gerardo Panno Organizzazione tecnica Tony Ciano Regia di Maurizio Paone Si ringrazia per la consulenza artistica Michele Mondella con la collaborazione di Luca Rotondi Produzione Claudio Montefusco e Paolo Sala Per la Live SRL